Alzi la mano chi ci credeva eppure pur soffrendo nella prima parte la vittoria della San Giovannese Livorno entra di diritto negli annali del vecchio Marzocco. Vittoria cinica per certi aspetti ma figlia di una condotta di gara attenta e senza fronzoli. Per il Livorno una brutta lezione come ha detto Protti prima della partita. Per i Labronici la quarta serie non sarà una passeggiata e non basta il solo blasone per vincere le partite. Fiericano rinuncia a Nannini colpito dalla febbre Scegli e Baldesi sull'out di destra. Il Livorno conquista campo nel ventitresimo, colpisce il legno con neri. Cipriani è rimasto impassibile. I padroni di casa ci credono e insistono. Al ventisettesimo Cretella fa tutto da solo. Il tiro mancino si stampa sul palo. Facile immaginare l'impregazione dei Livornesi fuori dallo stadio. La superiorità territoriale non dà frutti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa Rossetti dà la scossa salvando al quarto il risultato su tiro a botta sicura in area. Il ritmo scema da parte dei padroni di casa e la Sangio cresce e al quindicesimo arriva la stilettata che fa male. L'assist di Bellini è perfetto per l'inserimento di Migliorini. Per Fogli, figlio dell'indimenticato romano, nulla da fare. 1-0 per gli azzurri. La botta è pesantissima. Il Livorno è come quel pugile che non sa perché è arrivato il cazzotto in faccia. I collacchioni tenta la carta avvantaggiato ma in overtime è lo spagnolo Boix che chiude i conti. L'Iberico ha fatto il torero e per il Livorno fuori. Era già contestazione.